Eh, come sto? Piena di pensieri, come sempre, però bene, perché poi arrivi qua e ti rendi conto che va tutto bene. Sai, i ragazzi sono uno specchio, no? Cioè sono tremendamente onesti, soprattutto chi non ti conosce. E quindi mi hanno specchiato che sto andando verso la strada giusta, questo è quello che mi è arrivato. E quindi nonostante le difficoltà, nonostante la fatica, nonostante le cose che non ci sono, poi ti rendi conto di tutto quello che c'è stato, di tutto quello che c'è e anche di tutto quello che ci sarà. Io nella mia vita cerco sempre quel tipo di confronto, con qualsiasi persona incontro, quindi non sono stata stupita da questo. Per me è proprio la normalità questo, da un bel po'. E quindi certo, certo, ma io avrei voluto anzi parlare con loro, boh, non su un palco ma in cerchio, tutti insieme, erano tanti, quindi un cerchio veramente enorme sarebbe stato. Però avrei voluto fare io delle domande a loro. Lo trovo più interessante ovviamente perché io le mie risposte più o meno le conosco, poi non è vero perché ogni volta che qualcuno ti fa una domanda tu rifletti. E c'è stata soprattutto una ragazza che mi ha fatto una domanda su, detta così, papale papale è la libertà sessuale, in fondo di quello parlava, no? E' il giudizio che c'è nei confronti di una donna che o è troppo chiusa o è troppo aperta, non andiamo mai bene. Ed è stata una domanda molto interessante perché è una domanda per me ancora estremamente attuale, quindi il fatto che me la faccia una ragazza molto più giovane di me in questo contesto mi fa sentire che non sono l'unica. Le avrei chiesto se ci sono dei momenti in cui si sente di merda anche lei, perché poi siamo in quest'epoca di prestazione, no? In cui tutti dobbiamo essere splendenti e meravigliosi e magari chi vede una persona in televisione, sui social, no? Mi continuano ad urlare, sei bellissima. Ragazzi, ho accettato forse di essere carina da un anno e quindi dici, madonna quanto vorrei che anche tu ti sentissi bellissima invece di urlarlo a me, capito? Perché io ero una di loro e quindi sì, forse chiederei se si sente di merda anche lei a volte. Perché sentirti in quel modo ti porta a fare determinate scelte, determinati viaggi e determinate scoperte e quindi accettare la tristezza, accettare le cosiddette emozioni negative è assolutamente necessario. Perché siamo nella positive vibes, sì è bellissimo, auguro a tutti il bene, ma non possiamo prescindere dal male. Io non vedo l'ora di rifallire, Mocco ho capito il meccanismo, perché l'ho capito. Non vedo l'ora di fallire, cioè non che me lo vada a ricercare ovviamente, però mi rendo conto che quando fallisco succede qualcosa, comprendo qualcosa. Ma io poi non è tanto il fallimento quello che mi ha sempre fatto, è più che dovevo subito intraprendo una cosa e subito devo stare al 100%, devo essere la più brava. Ecco, io ero quella che voleva essere la prima della classe. Perché mio padre aveva questo problema e quindi me l'ha dato in eredità e io l'unica cosa che potevo fare non era incolpare mio padre che me l'aveva dato, perché poveraccio pure lui ha vissuto male, no? Gli avrà dato qualcun altro allo stesso modo. Era quello di indagarlo, questo essere la più brava e adesso non mi interessa più essere brava, mi interessa godere, essere felice, fare delle cose che mi facciano battere il cuore. E anche se quelle cose vanno male o non vanno al 100%, comunque averle vissute è bellissimo. Un amore, quanto è bello un amore che ci fa battere il cuore, può durare anche quattro mesi, ma è stato bellissimo e va bene così. E quindi quello che mi sono detta oggi è nonostante il fallimento tu devi seguire quello che ti fa battere il cuore, perché poi quando seguiamo quello che ci fa battere il cuore se poi falliamo è un disastro, ci sentiamo proprio male. E invece no, no, non è così. Seguire il cuore, sì, fallisci, fallisci, fallisci e a un certo punto ce la fai, sicuro, matematico. Beh, sicuramente delle vibrazioni positive, avrei voluto restare lì ancora di più, mi dispiace magari che non tutti hanno avuto l'attenzione, magari qualcuno non è riuscito a fare delle domande. Però quello che mi è rimasto di più è che io sono entrata e secondo me non mi conoscevano tanti ragazzi, perché io non è che sia proprio nazional popolare, fortunatamente, devo dirti la verità, un po' mi spaventa esserlo. E poi ho visto che mentre andavamo avanti, proprio perché non mi conoscevano, hanno visto me e questa è una cosa impagabile. Vuol dire che siamo stati bravi entrambi, sia loro sia io, perché io sono rimasta io e loro erano aperti a me. Ma questo i ragazzi ce l'hanno, per quello sono stupendi i ragazzi, cioè se fai schifo, fai schifo, cioè non gliene può fregare di meno. Se porti qualcosa, loro, ti ripeto, sono uno specchio, quindi te lo ridanno indietro. Quindi sicuramente è il cambiamento che c'è stato energetico in sala da quando sono entrata a quando me ne sono andata. Non erano, non, quegli occhi mi guardavano così non perché mi hanno visto in televisione, quegli occhi mi guardavano così perché hanno chiacchierato con me 40 minuti. Non lo so, io ce la metto tutta a creare cose belle per me e intorno a me. Questo è quello che mi interessa, perché la vita è una e alla fine che dobbiamo fare questa vita? Non lo so, ancora non l'ho capito, però secondo me fare cose belle per sé e per gli altri è un buon punto di partenza. Eh sì, perché il personaggio è comunque una maschera, no? La persona è qualcosa di tangibile, di reale ed è veramente quello che dal quale puoi ricevere delle cose. Poi anche il personaggio, perché comunque i personaggi a noi ci fanno sognare. Cioè un attore personaggio, quindi Laura personaggio, comunque magari fa sognare qualcuno e quindi serve anche quello. Ho cominciato ad accettare che sia così, perché prima invece no, no, devono conoscere me, alle. Anche il personaggio, mi fai sognare. Però ecco poi la realtà secondo me è ancora più bella del sogno. È come una storia d'amore, tu ti innamori, sogni, il primo momento è proprio il sogno, il sogno, l'idealizzazione. Ma quanto è più bello quando invece affronti le difficoltà insieme? Quanto è bello quando fate schifo tutti e due e lo mettete sul piatto? Però nonostante quanto fate schifo e quanto siete belli, riuscite a rimanere insieme e andare avanti in questo progetto. Quanto è più vero? Quanto è più bello di quell'innamoramento? O comunque non c'è più bello o meno bello. Sono belle entrambe le cose, capito? Però non ci dobbiamo mai scordare della realtà, perché la realtà è fatta di tutto e quindi di bene e di male, di nero e bianco. E io la amo la realtà, è proprio bella. E nel cinema vero tanta, tantissima. È quasi più reale del reale. Cioè recitare in realtà... Quando io recito, o magari mi fanno un video i miei amici mentre stiamo a fare l'aperitivo, io a volte dico, madonna, sono più reale quando recito che quando stiamo a fare l'aperitivo insieme. Perché quando recito tutti, tutte le energie, le distrazioni che tu hai nella vita, invece quando reciti sei lì, sei presentissimo, capito? Come adesso che ti guardo negli occhi, provo veramente ad essere super presente con te. E quindi sei proprio vero, tanto vero. Il cinema è l'ultima arte, per ora, che racconta storie. E differentemente dalle altre arti che raccontavano storie, come la scrittura, come la pittura, tu proprio vedi vita che accade in quel momento, no? Cioè la vedi? Potentissima questa cosa qua. Hai capito? Stai lì e spii. Era una cosa che non si è potuta fare prima. E il cinema può avere una potenza impattante nella società estrema, cosa che ha avuto. Pensa a Pasolini e Matera. Gli abitanti di Matera, prima, si vergognavano di abitare a Matera. Poi è arrivato Pasolini, ha girato un film là e Matera è diventata Matera. Cioè pensa alla potenza che ha, anche sociale. Per me è importante la potenza sociale che ha il cinema, perché mi interessa. Quindi è bello intrattenersi, però a me mi piace più la sostanza. Il cinema come la scrittura, appunto come la pittura, come ogni forma d'arte espressiva è fondamentale che venga coltivato. Ma perché la domanda? Perché se no sembriamo solo degli intellettuali che vogliono dare l'arte alle persone. Perché chi è venuto prima di noi sta lasciando un messaggio chiaro. messaggi diversi e quindi è il modo per, è un'eredità che ci lasciano. E se noi queste eredità prendiamo e le ignoriamo, ci stiamo perdendo tipo il conto in banca. L'eredità non è solo monetaria, chi se ne frega. L'eredità del pensiero, dell'anima, di come ci siamo evoluti durante la storia e gli involuti su alcuni aspetti, è fondamentale. Io leggo Socrate e mi riconosco in un uomo che ha vissuto, oh, cioè molto prima di me, no? E però mi ci riconosco in questo uomo. E questo mi fa sentire anche parte di un tutto, parte di una storia. Mi fa avere un posto nel mondo, in qualche modo. Non lo so. Cosa non è indispensabile. Mi chiedo se l'essere umano. Sono in un momento in cui mi chiedo se siamo indispensabili. Quindi forse l'essere umano non è indispensabile. Chi lo sa? È una provocazione la mia. Perché io ti risponderei no. Siamo indispensabili. Però in un momento storico come questo, in cui stiamo devastando tutto. E lo stiamo facendo, perché è visibile. E siamo tanti, otto miliardi, siamo tanti. Lo sento quanti siamo. Lo sento. E c'è una parte di me che dice siamo troppi. Siamo troppi. Mi chiedo se siamo indispensabili. E quindi che l'essere umano non sia indispensabile. È una domanda che ci dovrebbe far riflettere. Perché il posto su questa terra, secondo me, ce lo dobbiamo meritare. Come il posto ovunque. Cioè ogni volta che arrivo sul set. Non è che penso che è campo di rendita. Io me lo devo meritare. Ogni volta è una prima volta. Sono nuove persone. È un nuovo regista. È un nuovo ruolo. Non potrò mai campare di rendita. Me lo devo meritare di stare là. E quindi anche oggi mi chiedo a noi esseri umani. Ma ce lo meritiamo di stare qua? Non lo so. Ciao Giffoni. Ciao ragazzi del Giffoni. Grazie mille.